Allora, Lara Comi, vorrei partire prima dalla sua vicenda personale, vorrei che ce la raccontasse e poi ragionare su quello che sta succedendo invece questa depenalizzazione dello stalking. Tutto è iniziato nove mesi fa, ha iniziato questa persona a mandare messaggi, effettuare telefonate, a arrivare sotto a casa mia più di una volta e è presente a tutti gli incontri pubblici, istituzionali che io avevo. Quindi anche in quel servizio, quando la ragazza dice il suo sguardo non me lo dimentico, perché spesse volte, anche in quei comizi dove ero presente, la persona ti fissa, non guarda altro e per ore e ore ha lo sguardo rivolto verso di te. E' una violenza psicologica, vero, che a volte fa più male di una violenza fisica, perché ti limita nella tua libertà di donna e nella tua libertà di persona. Dopo sei mesi c'è stato il provvedimento di non avvicinamento, dopo otto denunce, perché da gennaio a giugno sono avvenute otto denunce che non erano legate a otto eventi, ma bensì a molti di più perché era giornaliero la sua presenza e quello che scriveva e faceva. Dopodiché c'è stato l'arresto e, Mirta, devo dirti che l'arresto è avvenuto durante una partita di calcio dove noi con la Nazionale delle Parlamentari, che abbiamo creato questa squadra proprio per combattere la violenza di qualsiasi genere e anche quella delle donne, e si è presentato e è stato arrestato. Oggi è ancora in carcere e mi auguro che rimanga il più possibile. Però ti devo fare una confessione. Quando, se mai, uscirà dal carcere la paura è doppia, perché non si sa come possa reagire. Io poi, viaggiando molto per l'estero, per Bruxelles e per Strasburgo, non ho la stessa, tra virgolette, facilità di poter chiamare polizia e carabinieri che ho in Italia. C'è paura, quindi, lei per il futuro? Sì, molta. Lara, è vero che questo signore, questo stalker che è finito in carcere, che si chiama Giovanni Bernardini, riceve moltissime lettere di ammiratrici, donne, in carcere? Mi ha molto colpito questa cosa. Guarda, sono rimasta colpita anch'io perché da donna non riesco a capire come altre donne possano avere un fan di quel tipo. Cioè, io vorrei conoscerle queste donne e spiegare loro che cosa ho vissuto io per nove mesi. È la prima volta in Italia che capita che una persona arrestata di stalking o che ha commesso reato ha delle fan per poter essere corteggiate. Io veramente mi auguro che tutto questo non sia vero, che sia una butad o quello che l'avvocato può aver detto, travisato e via dicendo. Perché se fosse vero, il problema allora è molto più culturale. Purtroppo, Lara Gomi, il tema delle fan in carcere l'abbiamo visto anche in casi molto più gravi. Penso a Pietro Masolo, che aveva ucciso i genitori, è stato sommerso di lettere. C'è qualcosa di spaventoso che si accende nella testa delle persone, perché veramente io mi chiedo cosa c'è da ammirare un signore che sta in carcere per stalking per aver rovinato la vita a una donna. È una cosa che anch'io non riesco a... Soprattutto, Mirta, non si è pentito. Cioè, la cosa strana è che nelle dichiarazioni che ha detto io non mi sono pestito, era un normale corteggiamento.